fake news per le femministe soprattutto contro il patriarcato a favore dei femministi in maniera esponenziale per esempio il Corriere della Sera che sembrerebbe una testata seria invece di vostra paghiacciata ho pubblicato un articolo dove dice che le donne guadagnano il 13% in meno dei uomini come salari come guadagno l'uomo guadagna il 13% in più rispetto a una donna oltre il 10% mi sembra 10-13% oltre 13 mila euro di differenza addirittura sia operai che classi dirigenti niente di più falso perché se andiamo a guardare andiamo a guardare non c'è niente di più falso perché se andiamo a fare una ricerca non c'è niente che ci sono statistiche che dice che anzi c'è parità a livello di salari e di paga qui non c'è nessuna differenza fra uomo e donna poi anche sto fatto che le donne vorrebbero avere i stessi lavori dei uomini non mi sembra che i uomini spingano a fare i stessi lavori delle donne come le colf come le maestre d'asilo questo e l'altro sono posti probabilmente più per donne come ad esempio una donna non può fare mai il muratore carpentiere questo perché giustamente è un lavoro più per l'uomo perché è una cosa biologica non tanto di intelligenza di attitudine questa è una cosa proprio di biologica che l'uomo deve fare lavori più forzati per esempio può fare lavori più di mano oppure anche di licenziali per esempio perché storicamente l'uomo è quello che ha quello che compito di fare più leadership su un gruppo questo quell'altro ne so che forse i donni vogliono per forza prevaricare sull'uomo non c'è andare a fare c'erano queste fake news che dicono che l'uomo colagna molto più della donna che non so non è vero assolutamente a questo punto perché c'è un dato che può smentire tutto questo perché un imprenditore capitalista non ingaggia una donna non prende una donna invece di prendere un uomo dato che va a risparmiare molto di più dato che la donna costa di meno dell'uomo con verrebbe di più l'imprenditore giusta venga ragione come un maschilista l'imprenditore riguarda la convenienza gli importa se uno è nero bianco non è una donna o uomo oppure bianco o nero cinese ti prende lo stesso perché se ti fa guardare lì più spendendo meno ti prende ti prende sicuramente ti prende è tutto una fake news che girano in giro andate a accertarvi andate a documentarvi prima di sparare stanzate queste sono le notizie che sarebbero segnalate come fake news in incitazione all'odio perché già c'è una guerra in atto fra i due sessi fa sia il sesso maschile che il sesso femminile c'è una guerra in atto è inutile dire no invece dove dovremmo essere tutti nella stessa barca dove rimane insieme in una sola direzione invece c'è una guerra e questo ha fatto calizzare e fomentare una guerra in atto fra due sessi questo è sbagliatissimo ragazzi cerchiamo i giornalisti terroristi sono i primi che mettono il zizzanio in tutto questo basta fare una ricerca e scoprirete che sia i salari dei uomini che delle donne sono uguali e non cambia assolutamente niente